Grazie a tutti i ragazzi presenti qui in questo momento, sia quelli di moda che quelli di audio video che vedete lì in postazione, sono alunni di una scuola statale, il Marelli Duto, che è una scuola pubblica. E qui sono Via Terzo per moda, Via Moretti per la grafica e per l'audio video, oltre alla sede di Via Di Vigno che presenta altri indirizzi. Invito chiunque sia interessato a visitare il sito della scuola www.marelli.dutovic per raccogliere altre informazioni, il lavoro che si svolge. Grazie. Allora questo progetto è partito da una collaborazione che da anni facciamo con la COP. Abbiamo organizzato questa sfilata, sarà presentata qui in questa fiera e anche in altre occasioni. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Io penso che francamente sia stata un'idea fantastica da parte dei professori quella di far partecipare gli alunni in varie vesti a questa manifestazione che è una delle più importanti di Milano. C'è stata in questo caso la doppia partecipazione delle ragazze dell'indirizzo di moda e degli alunni dell'indirizzo di audio video. Gli abiti che hanno realizzato le ragazze con i loro docenti sono veramente straordinari, di un'originalità unica. Sono stati utilizzati i tessuti che ci sono pervenuti dal Burkina Faso in una sorta di cooperazione internazionale. Grazie! 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 Grazie!